Il famosissimo attore italiano Riccardo Rossi ha vinto la bellezza di 72.400 euro nella puntata dei soliti gnoti di recente c'è stata, condotta da buon Amadeus da destinare alla Caritas di Roma. Nella puntata di ronda ieri sera, 27 maggio 2020, il mercoledì, il buon Riccardo è riuscito a indovinare il parente misterioso, cari fratello di una delle identità in gioco. Riccardo è il primo VIP a vincere una somma di denaro così importante che va ad essere destinata in beneficenza nelle puntate chari del programma di Access Pride Time di Raiuno, che va in onda da loro il discorso. Il programma condotto da Amadeus è tornato in diretta finalmente con una formula benefica che vede giocare per la vittoria personaggi VIP, il cui Montepremi, in caso di vittoria, viene andato ad essere devoluto a enti e associazioni impegnate nel mondo. Relativo al sociale, quindi a chi ha purtroppo dei problemi a livello personale. Grazie a tutti, complimenti al buon Riccardo Rossi che vince 72.400 euro, quello che va a devolvere in beneficenza. Un caro saluto a voi, cari utenti di YouTube, il video termina qua, bravissimo per la vittoria. Caro Riccardo, sei un grande, sei un mito, sei fenomenale. Ciao da Leandro, nato italiano.